No, Giovanni riprende, voglio subire la musica, facciamo la musica, facciamo la musica. No, si, portami il testo di Rade per favore. Allora, faccio dopo. Allora, faccio anche i Rade per favore, ma ancora è fisico. Bene, la musica è la musica. Vasi! Questa ce l'è? Lascia più l'ho. No, non c'è un po' dal passato, ma non c'è un po' dal passato. Allora, faccio anche i Rade per favore in this generation. Allora, faccio anche i Rade per favore, ma ancora è questa, non c'è un po' dal passato. Non questa è una romanzo, non c'è un po' dal passato. Ecco la musica. Allora, faccio anche la musica. Allora, faccio anche i Rade per favore, ma ancora è il présento. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti